Sono Alessandro Guerciotti, amministratore delegato di Guerciotti, un'azienda nata nel 1964 che si appresta a compiere i 60 anni di attività nel 2024. La nostra azienda, come un po' tutte le aziende del settore ciclo, è cresciuta moltissimo dopo la pandemia e in questa crescita che stiamo affrontando nel mondo del ciclismo sicuramente è diventato fondamentale una riorganizzazione aziendale e anche una riorganizzazione interna dal punto di vista di officina. Per questo è che ci siamo fidati a 3D Beta, poiché ci ha permesso di riorganizzare tutto il nostro quartiere officina con dei prodotti sicuramente ad avanguardia, con una customizzazione sia a livello di misure, dimensioni e colore e per un'azienda come la nostra che è appuntata sulla qualità e tende a crescere, l'appoggiarci a fornitore, a partner importanti che puntano altrettanto alla qualità come 3D Beta diventa fondamentale.